Ciao, 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 ciao a tutti, ciao a tutti. Buongiorno, 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 buongiorno. È un piacere conoscerti. È un piacere conoscerti. È un piacere conoscerti. A dopo. A presto. A presto. A presto. Arrivederci. Arrivederci. A domani. A domani. A domani. Grazie. 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 Mi piaci. Mi piaci. Mi piaci. Sei troppo divertente. Sei troppo divertente Sei troppo divertente Sei fantastico Sei fantastico Sei bellissima Sei bellissima Sei bellissima Sei bellissimo Sei bellissimo Sei bellissimo Mi ami? Mi ami? Mi ami? Ti amo Mi piaci moltissimo Ti amo Mi piaci moltissimo Ti amo Mi piaci moltissimo Non ti amo Non mi piaci Non ti amo Non mi piaci Non ti amo Non mi piaci Mi manchi molto 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 Lascia che ti abbracci Lascia che ti abbracci Lascia che ti abbracci Lascia che ti abbracci Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Mi chiamo Beatrice Mi chiamo Beatrice Mi chiamo Beatrice Chi sei? Chi sei? Chi sei? Sono uno studente Sono uno studente Sono uno studente Lavoro in ospedale Lavoro in ospedale Lavoro in ospedale Da che paese vieni? Da che paese vieni? Da che paese vieni? Sono tedesco Sono tedesco Sono tedesco Sono spagnolo Sono spagnolo Sono spagnolo Sono messicano Sono messicano Sono messicano Sono messicano Sono francese Sono francese Sono francese Sono francese Quanti anni hai? Quanti anni hai? Quanti anni hai? Ho 25 anni Ho 25 anni Ho 25 anni Che ore sono? Sono le 4 del pomeriggio. Sono le 4 del pomeriggio. Sono le 4 del pomeriggio. Oggi non ho tempo di. Domani è il mio compleanno. Domani è il mio compleanno. Domani è il mio compleanno. Quest'anno non voglio festeggiare il mio compleanno. Quest'anno non voglio festeggiare il mio compleanno. Buon compleanno. Buon compleanno. Buon compleanno. Buon fine settimana. Buon fine settimana. Buon fine settimana. Fai buon viaggio. Fai buon viaggio. Fai buon viaggio. Oggi è il 9 settembre. 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 Oggi è martedì. Oggi è martedì. Oggi è martedì. Oggi sono molto impegnato. Oggi sono molto impegnato. Oggi sono molto impegnato. Domani è mercoledì. Cosa farai domani? Cosa vuoi fare domani? Domani voglio incontrarmi con il mio papà. Domani voglio incontrarmi con il mio papà. Cos'hai fatto ieri? Cos'hai fatto ieri? Puoi parlare un po' più lentamente, per favore? Puoi parlare un po' più lentamente, per favore? Puoi ripetere la frase, per favore? Puoi ripetere la frase, per favore? Puoi ripetere la frase, per favore? Puoi scriverlo, per favore? Puoi scriverlo, per favore? Puoi scriverlo, per favore? Puoi farmi lo spelling, per favore? Puoi farmi lo spelling, per favore? Puoi spiegarmi il significato di questa parola? 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 Non ho sentito. Non ho sentito. Non ho sentito. Non ho sentito. Qual è il significato di? Non capisco. Non capisco. Non capisco. Non capisco questa espressione. Non capisco questa espressione. Non capisco. Non capisco questa espressione. Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? Sono bene. Sono molto stanco. Sono molto stanco. Sono molto triste. Sono molto triste. Sono molto preoccupato. Sono molto preoccupato. Sono molto preoccupato. Non mi sento bene. Non mi sento bene. Non mi sento bene. Non mi sento bene. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. O siete. O siete. Cosa vorresti da bere? Cosa vorresti da bere? Cosa vorresti da bere? Vorrei bere dell'acqua. Vorrei bere dell'acqua. Vorrei bere dell'acqua. Ti piace bere il vino? Ti piace bere il vino? Ti piace bere il vino? Un caffè, per favore. Un caffè, per favore. Un caffè, per favore. Vorrei un caffè. Vorrei un caffè. Vorrei un caffè. Vorresti bere del tè o dell'acqua? Vorresti bere del tè o dell'acqua? Non ho sete Cosa vorresti mangiare stasera? Hai mangiato abbastanza? Hai mangiato abbastanza? Hai mangiato abbastanza? Sono pieno e tu? Sono pieno e tu? Sono pieno e tu? Sto morendo di fame Sto morendo di fame Sto morendo di fame Voglio mangiare Voglio mangiare Vorrei mangiare un'insalata Vorrei mangiare un'insalata Ho già mangiato Ho già mangiato Ho già mangiato Vorrei mangiare della pasta 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 Non ho fame Non ho fame Non ho fame Avete il menù? Avete il menù? Avete il menù? Cameriere, può portarmi il menù, per favore? Cameriere, il conto, per favore. 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 Per favore, chiamate in anticipo per prenotare. Per favore, per favore. Cameriere, il conto, per favore. Che tempo fa oggi? Che tempo fa oggi? Che tempo fa oggi? Pioverà oggi? Pioverà oggi? Pioverà oggi? Oggi fa molto caldo. Oggi fa molto caldo. Oggi fa molto caldo. Oggi c'è il sole. Oggi c'è il sole. Oggi c'è il sole. Oggi c'è bel tempo. Oggi c'è bel tempo. Oggi c'è bel tempo. Oggi c'è bel tempo. Cosa vorresti comprare? Cosa vorresti comprare? Vorrei comprare una cartina della città. Vorrei comprare una cartina della città. Vorrei comprare un paio di scarpe. Vorrei comprare un paio di scarpe. Vorrei comprare un paio di scarpe. Mi può far vedere questo, per favore? Mi può far vedere questo, per favore? Mi può far vedere questo, per favore? Quanto è il totale? Quanto è il totale? Quanto è il totale? A è davvero caro. A è davvero caro. Troppo caro. Troppo caro. Non ho soldi. Non ho soldi. Ho perso il mio portafoglio. Ho perso il mio portafoglio. Ho perso il mio portafoglio. Vorrei cambiare dei dollari in euro. 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 Non sono riuscito a dormire. Mi sono preso un raffreddore e ho tossito tutta la mattina. Ho 39 di febbre. Ho 39 di febbre. Sono malato. Mi sento molto male. Sono malato. Mi sento molto male. Sono malato. Mi sento molto male. Ho spesso mal di testa. Ho spesso mal di testa. Ho mal di stomaco. Cosa dovrei fare? Ho mal di stomaco. Cosa dovrei fare? Ho mal di stomaco. Cosa dovrei fare? Spero che ti riprenderai presto. Spero che ti riprenderai presto. La mia pelle è molto sensibile. La mia pelle è molto sensibile. La mia pelle è molto sensibile. Sei allergico a qualcosa? Sei allergico a qualcosa? Cos'è? 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 chi è? chi è? chi è? chi è? chi è? chi è? chi è il padrone di questo cane? Chi è il padrone di questo cane? Chi è il padrone di questo cane? Dove lavori? Lavori troppo. Lavori troppo. Lavori troppo. Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Dove sei stato ieri sera? Dove sei stato ieri sera? Dove sei stato ieri sera? Chi è il tuo scrittore preferito? 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 Entra, per favore. Entra, per favore. Siediti, per favore. Siediti, per favore. Calmati. 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 Non parlare, per favore. Non parlare, per favore. Ascolta, per favore. Ascolta, per favore. Ascolta, per favore. Non fare tutto questo rumore, per favore. Non fare tutto questo rumore, per favore. Non fare tutto questo rumore, per favore. Smettila di piangere. Smettila di piangere. Smettila di piangere. Perché stai ridendo? Perché stai ridendo? Perché stai ridendo? Aspettami un attimo, per favore. Torno tra un attimo. Aspettami un attimo, per favore. Torno tra un attimo. Aspettami un attimo, per favore. Torno tra un attimo. Riposiamoci per dieci minuti. Andiamo al cinema. Andiamo al cinema. Andiamo al cinema. È vietato fumare. È vietato fumare. È vietato fumare. Andiamoci insieme. Andiamoci insieme. Andiamoci insieme. Cammina un po' più lentamente, per favore. Cammina un po' più lentamente, per favore. Cammina un po' più lentamente, per favore. Non perdere tempo. Non perdere tempo. Spegni la musica, per favore. Spegni la musica, per favore. Spegni il tuo cellulare, per favore. Spegni il tuo cellulare, per favore. Spegni il tuo cellulare, per favore. Quando mi restituirai i miei soldi? Quando mi restituirai i miei soldi? Quando mi restituirai i miei soldi? Ho un'idea. Ho un'idea. Ho un'idea. Ho un'idea. È un'ottima idea. È un'ottima idea. È un'ottima idea. È un argomento molto interessante. È un argomento molto interessante. È un argomento molto interessante. Qual è la tua opinione? Qual è la tua opinione? Qual è la tua opinione? Voglio sapere qual è il tuo punto di vista. Voglio sapere qual è il tuo punto di vista. Voglio sapere qual è il tuo punto di vista. Non capisco cosa vuoi dire. Non capisco cosa vuoi dire. Non capisco cosa vuoi dire. Sei d'accordo? Sei d'accordo? Sei d'accordo? Non penso di aver fatto nulla di sbagliato. Non penso di aver fatto nulla di sbagliato. Non penso di aver fatto nulla di sbagliato. Hai ragione. Hai ragione. Hai ragione. Ti ho mandato un messaggio. Ti ho mandato un messaggio. Ti ho mandato un messaggio. Qual è il tuo numero di telefono? Qual è il tuo numero di telefono? Qual è il tuo numero di telefono? Il mio cellulare non funziona. Il mio cellulare non funziona. Non funziona. Non funziona. Il mio cellulare non funziona. Cos'è successo? Cos'è successo? Cos'è successo? Dove hai perso il tuo telefono? Dove hai perso il tuo telefono? Dove hai perso il tuo telefono? Domani ti mando un'e-mail. Domani ti mando un'e-mail. Domani ti mando un'e-mail. Ho dimenticato la mia password. Ho dimenticato la mia password. Ho dimenticato la mia password. Ho dimenticato il tuo nome. Ho dimenticato il tuo nome. Ho dimenticato il tuo nome. Come osi parlarmi così? Come osi parlarmi così? Come osi parlarmi così? Hai bisogno di aiuto? Hai bisogno di aiuto? Hai bisogno di aiuto? Puoi aiutarmi? Puoi aiutarmi? Puoi aiutarmi? Puoi chiamare un'ambulanza? Puoi chiamare un'ambulanza? Puoi chiamare un'ambulanza? Mi dispiace. Non posso aiutarti. Mi dispiace. Non posso aiutarti. Mi dispiace. Non posso aiutarti. Dov'è l'ospedale? Dov'è l'ospedale? Dov'è l'ospedale? Dov'è l'ospedale? Dove stai andando? Dov'è l'ospedale? Dove stai andando? Dov'è l'ospedale? Dov'è l'ospedale? Devo tornare a casa adesso. Dov'è l'ospedale? Devo tornare a casa adesso. Dov'è l'ospedale? Devo tornare a casa adesso. Dov'è l'ospedale? In che direzione si trova la posta? In che direzione si trova la posta? In che direzione si trova la posta? Dov'è la farmacia più vicina? Dov'è la farmacia più vicina? Dov'è la farmacia più vicina? C'è qualcuno seduto a questo posto? C'è qualcuno seduto a questo posto? C'è qualcuno seduto a questo posto? Ho una domanda. Ho una domanda. Posso farti una domanda? Posso farti una domanda? Posso farti una domanda? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non importa. Non importa. Non importa. Ripetilo, per favore. Ripetilo, per favore. Ripetilo, per favore. Mi dispiace disturbarti. Continua, per favore. Mi dispiace disturbarti. Continua, per favore. Mi dispiace disturbarti. Continua, per favore. Cos'hai appena detto? Cos'hai appena detto? Cos'hai appena detto? Cos'hai appena detto? Sei sposato? Hai una ragazza? Hai una ragazza? Hai una ragazza? Hai un ragazzo? Hai un ragazzo? Hai un ragazzo? Ho un sogno. Ho un sogno. Ho un sogno. Il mio sogno è di rendere il mondo un posto migliore. Il mio sogno è di rendere il mondo un posto migliore. Disegnami una pecora. Disegnami una pecora. Disegnami una pecora. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Devo andare. Devo andare. Devo andare. Non dare importanza a cosa dicono gli altri. Non dare importanza a cosa dicono gli altri. Non dare importanza a cosa dicono gli altri. Nonostante quello che dici, a me non importa. Nonostante quello che dici, a me non importa. Nonostante quello che dici, a me non importa. In effetti non posso farci niente. In effetti non posso farci niente. In effetti non posso farci niente. La tua frase è sbagliata. La tua frase è sbagliata. La tua frase è sbagliata. Mi dispiace molto. Mi dispiace molto. Mi dispiace molto. Mi dispiace molto. Grazie a tutti